Dai Balcani alla Romania, l'Europa sudorientale è stretta nella mossa del freddo e bloccata dalla neve. Sono almeno sei morti causati da maltempo e temperature sotto zero tra Croazia, Bosnia, Serbia e Romania. Nel corso del fine settimana la maggior parte delle vittime si sono registrate in Croazia, a Zagabere le più intense nevicate negli ultimi 60 anni.